Siamo andati con un'altra parte, con un'altra parte, con un'altra parte, con un'altra parte, con questa disciplina molto interessante, anche per la nostra zona. Ecco, per il volo, ripetiamo, domani ci saranno due momenti con il lancio dei paracaditismi. Bene bene, era un weekend animato da tre tipi di volo, parapendio, paramotore e paracaditismo, due lanci domani e per tutta la giornata di oggi, fino alle 17.30 e da domani mattina, dalle 10 in poi, tantissimi voli di paramotore e parapendio e abbiamo scoperto, con i ganni abbiamo imparato a scoprirmi con priorità il volo in paramotore. Intanto abbiamo un passaggio, un controvento, il terreno, anche un passaggio che potrebbe essere quasi in formazione, e due paramotoristi molto vicini. Il picco numeroso, tra l'altro, finalmente un weekend di primavera, come si deve, dopo i due weekend precedenti e prossimi anni l'anno di oggi. Un passaggio molto vicino al parco di Piatta della Vittoria. E allora salutiamo con un applauso i nostri paramotoristi. Quattro applauso a tutti loro che ci stanno regalando questi momenti di volo, hanno un po' sfigato il vento, che è un po' calato rispetto a un'ora fa, ma non del tutto, perché se guardate comunque i banner continuano. ...dividere sui social, sulla pagina Facebook, che ci stanno scrivendo ad esempio il governo, le varie foto. Guardate, guardate la velocità e guardate questa rotazione, questo 360 gradi, e le munizioni che continuano. E sto a fare avanti per vedere e per farci anche capire. cosa può spingersi a fare un paramotore? La velocità è decisamente aumentata e soprattutto grande manovraggiatà e possibilità di fare diverse evoluzioni. Qualcuno di loro è molto in alto, se guardate sempre verso... ...verso S c'è un paramotore che è molto in alto, forse il più in alto in questo momento è dietro, è dietro questo pino, perché sulla pasticciata magari non riesce a rinvento perché è molto nascosto, ma ecco i tre quelli che sono più in alto. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...fotoristi e sempre tutto cercare di poter farne magari due o tre di uno scatto soltanto io ci ero trovato, c'è stato un momento in cui tre paramotore erano molto vicino proprio qua sopra Piazza della Vittoria allora era possibile fotografarli, mi ricordo la pagina social Facebook del Festival del Vento se volete volare anche voi in questa prima settimana potete farlo, ad esempio potete prenotare per domani il vostro volo in biposto sul paradiglio, potreste regalarvi così per domani la possibilità di volare con il paradiglio andiamo all'Oris allora intanto continuano i vari voli, i vari decolli, i vari atterraggi e sarà così insomma fino alle 17.30 e ogni tanto si senti attenti, ci regalano anche delle figure che cercavano di spiegare un poco fa a volte iniziano a vedere, ma vorrei accontentare una volta il franco ripotene, il vice sindaco e l'assessore del Comune per il periodo pasquale, per l'accoglienza mi hai girato un po' a opera Federico se vuoi provare, io sono arrivato all'a opera e sono di quelle scuffe pazzeste se vuoi provare la vietti la primavera dai